Il Signore è veramente risorto, alleluia, alleluia, sia lodato Gesù Cristo. Questo è il nostro grido di battaglia, il Signore è veramente risorto. Dal momento che Gesù è risorto veramente dalla morte, e quel veramente ci ricorda che non è per finta, Gesù è risorto veramente dalla morte, dal momento che Lui è risorto veramente, allora la nostra speranza, la nostra speranza non è vana, la nostra speranza non è un sperare in qualcosa di vago, come quando uno per esempio gioca la schedina dell'enalotto, dice speriamo che esce il 6 così vinco qualche milione di euro, oppure qualche speranza, speriamo che vada meglio, ma una speranza vaga, effimera. La speranza del cristiano è qualcosa di diverso, la speranza, come la definisce il catechismo, l'insegnamento della Chiesa, la speranza è la certezza della vittoria, la speranza del cristiano è la certezza della vittoria, di quale vittoria se non della vittoria di Cristo sulla morte, sul peccato, sulle tenebre, la veglia pasquale ce lo ricorda, è una veglia di luce, quella luce che splende nelle tenebre, il cero pasquale ce lo ricorda, il cero pasquale è Cristo luce del mondo, è Cristo luce che splende nelle tenebre del mondo, è Cristo che irradia la terra, come abbiamo cantato nel preconeo pasquale, irradia la terra della luce di Dio. E allora questa è la nostra gioia, questa è la nostra speranza, che Cristo è veramente risorto dalla morte e allora la nostra fede non è vana, il nostro camminare nella fede non è vano, il nostro sperare in Dio non è vano, anzi è certezza di vittoria, poiché, come dice l'Apostolo Paolo, se siamo risorti in Cristo, siamo risorti con Lui, siamo fatti per camminare in una vita nuova, in una vita rinnovata nella grazia, nella grazia di Dio, in una vita diversa da quella che segue la logica del mondo, ma una vita che segue invece la logica del Vangelo, la logica di Cristo. Gesù ha detto voi siete luce del mondo, il cristiano è chiamato a essere luce del mondo e quindi a risplendere, la luce deve splendere, deve essere visibile, si deve vedere. Ecco, se siamo uniti a Cristo, allora la nostra certezza, la nostra speranza non è vana. E non è una cosa da poco, non è una cosa da poco avere questa certezza, questa speranza della vittoria in un mondo dove molti sono disperati, molti vivono nelle tenebre, molti non hanno speranza, vivono magari come gli animali alla giornata o peggio degli animali nel peccato, contro la legge di Dio, in un mondo che non ha una vera speranza, una vera luce senza Gesù Cristo, non può avercela, poiché Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla. Non è una cosa da poco portare la luce di Cristo, è una cosa decisiva, soprattutto in questo mondo che ha rinnegato Gesù Cristo. Siamo nel tempo dell'apostasia, il tempo del grande tradimento e allora portare la luce di Cristo, portare la luce della verità, portare la luce della speranza di Cristo, cioè la certezza della vittoria di Cristo sul demonio, sulla società apostata, sulla falsa chiesa, portare questa certezza di vittoria non è una cosa scontata e non è una cosa da poco. Allora dobbiamo veramente essere fieri, fieri di essere cristiani, lo dicevo anche stanotte nella veglia, poiché ho amministrato tre battesimi di tre catecumeni che ho preparato al battesimo e ecco questi battesimi ci hanno ricordato, come dicevo anche stanotte, la bellezza di essere cristiani, ci hanno ricordato che dobbiamo vivere da cristiani a testa alta e non con spavalderia. A testa alta significa senza vergognarci, senza vergognarci, senza vergognarci del nome di Gesù, senza vergognarci della verità, senza vergognarci di dare la nostra testimonianza per la fede, perché Gesù ha detto chi si vergogna di me anche io, mi vergognerò di lui. Ma molte volte, molte volte il nostro cuore è come quel sepolcro, è quel sepolcro chiuso da quel masso, da quel masso gigante, che le tre Marie non sapevano come, nei loro pensieri, non sapevano come rotolare via, e quando arrivano al sepolcro invece vedono che quel masso era già stato rimosso. Molte volte il nostro cuore è chiuso da quel masso, abbiamo bisogno di un'azione dall'alto, di un'azione di Dio che venga a rotolare via quel masso, perché possa uscire lo spirito di resurrezione, anche dal nostro cuore, affinché possiamo vivere veramente da risorti, da figli di Dio, stabilmente nella grazia e portando sempre questa speranza, questa gioia pasquale al mondo intero. Ecco, anche noi abbiamo queste chiusure a volte, che ci impediscono di annunciare che Cristo è risorto dai morti e che Cristo è risorto nella nostra vita. Ecco, le tre Marie che si recano al sepolcro, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, che si recano al sepolcro, sono impedite dall'annunciare che Cristo è risorto. Ma una volta, una volta fatta l'esperienza della risurrezione, ecco che divengono le prime annunciatrici della risurrezione. Questo è il Kerigma, se vogliamo, l'annuncio fondamentale del cristiano. Il Kerigma, cioè l'annuncio di salvezza, Cristo è risorto dalla morte, Cristo è il Signore, Cristo è Dio. E questa è l'essenza dell'annuncio, della testimonianza, dell'esperienza della risurrezione. E allora, dicevo, noi abbiamo tante volte queste chiusure, che ci impediscono di annunciare con la nostra vita che Cristo è risorto, che ci impediscono di annunciare che Cristo è il Signore, che ci impediscono di testimoniare con la nostra vita che Cristo è veramente risorto, ma è risorto per noi, poiché viviamo, poiché viviamo da risorti. E allora siamo chiamati a manifestarlo con la nostra vita, che Cristo è risorto. E allora chiediamo al Signore di aprire tutti i nostri sepolcri oggi, in questo giorno di risurrezione, affinché possiamo, in questo tempo di apostasia, in questo tempo di prova, in questo tempo in cui a a volte sentiamo la fatica del cammino, lo sconforto, a volte ci prende la tristezza, lo scoraggiamento. Chiediamo al Signore di vincere tutte le nostre resistenze, affinché possiamo veramente annunciare che Cristo è risorto, che Cristo è verità e che Cristo è risorto per me, cioè l'ho incontrato nella mia vita, ho incontrato il Cristo risorto e l'ho testimonio con la mia stessa vita. Chiediamo al Signore perché questa è un'occasione di grazia, poter annunciare Gesù nella verità, nella comunione vera della fede, è un'occasione di grazia per i tempi che stiamo vivendo, poter annunciare la verità, poter annunciare Cristo nella vera comunione della Chiesa, quella vera comunione che ci ha portato a uscire dalle parrocchie e a trovarci in questi luoghi, in questi luoghi, diciamo, appartati, in questi luoghi segregati, possiamo dire, per celebrare degnamente i santi misteri di Cristo, la Santa Messa, i sacramenti della fede, poiché i sacramenti, come dico sempre, si celebrano nella unità della fede. I sacramenti riguardano la fede, quindi è inutile celebrare diecimila sacramenti se poi manca la fede, se quei sacramenti non alimentano la fede e anzi portano lontano dalla fede. La fede è il requisito essenziale per celebrare bene il sacramento e allora la Chiesa non è fatta di mattoni soltanto, ma la Chiesa siamo noi, siamo noi quando siamo uniti nella vera comunione della fede, quando siamo uniti nello Spirito Santo, quando siamo uniti nella verità e per un cattolico quando siamo uniti per mezzo del vicario di Cristo, che è il Papa e che ha ricevuto da Cristo stesso il compito di confermare i fratelli nella fede. Chi sono i fratelli di Pietro? Innanzitutto sono gli apostoli, quindi il collegio apostolico, possiamo dire i vescovi, quindi il Papa ha il compito di confermare innanzitutto i vescovi nella fede e attraverso i vescovi tutto il popolo di Dio e allora capiamo bene che se viene meno questo, se c'è sul soglio di Pietro uno che non è il Papa, che non conferma nessuno nella fede e che ha tanti vescovi che sono come lui, allora capiamo bene che il popolo di Dio non può essere confermato nella fede, ma cammina per vie di perdizione e allora ringraziamo il Signore se facciamo questa esperienza del Cristo risorto in mezzo alla comunione ecclesiale e in mezzo alla comunità che celebra i sacramenti nella unità della fede e la parola del Signore oggi, la parola di San Paolo che abbiamo ascoltato dalla prima lettera ai Corinti ci invita a essere pane azimo, a eliminare il lievito vecchio e a essere pane nuovo, pane azimo, ecco questa metafora è presa naturalmente dall'Esodo, quando gli ebrei festeggiando la prima Pasqua, la Pasqua di liberazione, non ebbero il tempo di far lievitare il pane e furono costretti a scappare, è quella notte, la notte della Pasqua, del passaggio dalla schiavitù alla liberazione, gli ebrei non ebbero il tempo di far lievitare il pane e allora mangiarono pane azimo e allora nel rituale ebraico ancora fino ad oggi si mangia nella Pasqua ebraica il pane azimo per ricordare la Pasqua, la Pasqua del Signore che passò per liberare gli ebrei dagli egiziani a donare la vita agli uni e la morte agli altri, la liberazione agli uni e la schiavitù agli altri e allora San Paolo ci invita a essere questo pane azimo nuovo, a eliminare il lievito vecchio per tutto ciò che ci impedisce di liberarci per andare nel deserto a celebrare un culto gradito a Dio, per quale motivo gli ebrei volevano liberarsi dagli egiziani? Per andare a celebrare un culto a Yahweh, Mosè va dal faraone chiedendo il permesso di celebrare il culto gradito a Yahweh, il faraone si oppone e allora interviene Dio stesso, ecco la stessa cosa avviene ai nostri giorni, noi celebriamo il culto al Dio vero e vivo liberandoci da quelle strutture di peccato, da quelle strutture di menzogna che non ci permettono di adorare il Signore in spirito e verità, che non ci permettono di adorare il Signore nella vera comunione della fede e allora il Signore ci invita a essere questo pane azimo e a eliminare tutto ciò che è vecchio, a vivere rinnovati nella potenza della grazia del Signore, nella grazia dei sacramenti pasquali, conservando questa grazia, accrescendola sempre di più e anche fidandoci di Dio, perché Dio come intervenuto allora per liberare il suo popolo interviene anche oggi, per portare il suo popolo vero, il piccolo resto cattolico, per portarlo a largo e lontano da coloro che vogliono impedire invece il culto vero a Dio, ditemi voi se la falsa chiesa non sta lavorando per impedire il vero culto, per distruggere le cose più sacre, per distruggere la Santa Messa, stanno distruggendo tutto e allora il popolo di Dio quello vero è chiamato a uscire dall'Egitto, è chiamato a uscire da quelle strutture che sono strutture di morte, strutture che vanno contro la stessa volontà di Dio e il Signore stesso guida il suo popolo, il Signore stesso porta a largo il suo popolo, il Signore stesso ci concede di adorarlo in spirito e verità e allora ringraziamo Dio se appunto ci dà di fare questa esperienza, l'esperienza della fede, l'esperienza dell'incontro vero con il Cristo risorto, il Cristo risorto che ci conferma nella fede e ci fortifica e ci dà di sentire la sua presenza viva in mezzo a noi, cioè è Lui che ci guida, è Lui al comando del suo popolo, è Lui che interviene ed interverrà a favore del suo popolo affinché il suo popolo possa celebrare il culto e cioè per noi il culto è la Santa Messa essenzialmente e i sacramenti della fede e celebrarli e celebrarli come Dio stesso vuole e allora ringraziamo il Signore e per tutti i suoi benefici, facciamo memoria in questo santo giorno di tutto quello che Lui ha fatto per noi nella nostra vita, di come ci ha condotti fino a qua. Fare memoria significa riconoscere quello che Dio ha fatto per noi, riconoscere che è Lui che ci ha guidato e riconoscere quello che Dio ha fatto ci porta a ringraziarlo, a benedirlo, ad adorarlo e tutti noi per strade diverse, per strade invenzabili ci siamo conosciuti, ci siamo radunati ma è il Signore che ha tracciato questa strada per noi. Siamo invitati oggi a fare memoria e fare memoria significa adorare il Signore, ringraziarlo, benedirlo ma anche aprirsi alle nuove grazie che Lui vuole donarci e allora guardiamo con fiducia, guardiamo con fiducia al cammino che ci attende, guardiamo con fiducia a quello che verrà poiché se il Signore è con noi, se il Signore guida il suo popolo e di chi dobbiamo temere, di chi avremo paura, dice il Salmo. Apriamoci a tutte le grazie che il Signore vuole concederci e non stiamo lì ancora troppo a guardare quello che fa la falsa chiesa, dobbiamo liberarci, dobbiamo fare la nostra strada, dobbiamo prendere il largo perché è il Signore che ci libera, il Signore che ci conduce, non stiamo a rimpiangere le cipolle di Egitto, non stiamo a guardare quello che fanno perché ormai è chiaro che il progetto di distruzione andrà avanti, ma facciamoci guidare dal Signore, allora Lui moltiplicherà le benedizioni, moltiplicherà le grazie per noi e noi sperimenteremo sempre la sua presenza in mezzo a noi, la sua forza, la sua provvidenza, il suo amore perché il Signore ama, ama il suo popolo e il Signore non permette però, non permette il tradimento, non sopporta il tradimento, il Signore è un Dio geloso e un Dio geloso del suo popolo e allora non dobbiamo commettere quell'errore che hanno commesso gli ebrei che a un certo punto si sono stancati del cammino e hanno iniziato a mormorare contro il Signore, hanno iniziato a rimpiangere le cipolle di Egitto e si sono chiusi alla grazia di Dio, si sono chiusi tanto che il Signore poi li ha castigati e quella generazione non è entrata nella terra promessa, ha detto Dio a Mosè questa generazione non entrerà fino all'ultimo, fino a che non sia morto l'ultimo, non entrerà nella terra promessa ma ci entrerà la generazione successiva poiché non avete creduto, poiché avete mormorato contro il Signore, mi avete tradito alle acque di Meriba e poi vi siete fatti un vitello d'oro, avete adorato un vitello d'oro, questa generazione non entrerà e allora Mosè per grande che è stato, è il grande patriarca Mosè, ha visto la terra promessa da lontano, sul monte Nebo Mosè morirà vedendo proprio in prospettiva lontana quella terra promessa nella quale lui non è entrato, è entrato Giosuè il suo successore, colui che ha condotto il popolo nella terra promessa e allora non facciamo l'errore anche noi di non entrare nella terra promessa poiché la terra promessa per noi è il trionfo del cuore immacolato di Maria oggi, dobbiamo essere partecipi della vittoria di Maria, quella vittoria che lei ci ha promesso solennemente per i nostri giorni che è la vittoria di Cristo, se vince Maria vince anche Cristo, non si possono separare le due vittorie e allora dobbiamo entrare nella terra promessa, cioè nella vittoria di Maria e stiamo attenti allora a non stancarci nel cammino, stiamo attenti a non mormorare contro il Signore, stiamo attenti a non rimpiangere le cipolle di Egitto, stiamo attenti perché se no rischiamo, rischiamo di non entrare nella terra promessa, rischiamo di non vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria, possiamo anche perderci, possiamo smarrirci come purtroppo capita anche a tanti fratelli che avevano iniziato bene e che lungo il cammino si sono stancati, hanno perso l'entusiasmo, hanno perso lo spirito e addirittura alcuni sono diventati anche nemici, non solo hanno lasciato il cammino ma anche sono diventati nemici e allora rinnoviamo oggi le nostre promesse al Signore, nella notte di Pasqua abbiamo rinnovato in modo solenne le promesse battesimali, adesso canteremo il credo con questo spirito di rinnovare la nostra professione di fede e di rinnovare il nostro sì al Signore perché possiamo ripartire cercando di aderire sempre meglio alla grazia di Dio, cercando di aderire alla nostra vocazione perché il Signore ci ha chiamato a far parte di un piccolo resto, il Signore ha posato il suo sguardo su di noi, poiché si fida di noi, il Signore ha posato il suo sguardo su di noi perché ci ama, perché ci vuole liberare e liberare dall'Egitto affinché possiamo arrivare anche noi alla terra promessa e celebrare come dicevo prima un culto vero gradito al Signore, essere liberi nello spirito, essere liberi e vivere veramente nella libertà dei figli di Dio. E allora con questo spirito adesso canteremo il credo rinnovando al Signore il nostro sì, rinnovando la nostra professione di fede e aprendo il cuore alle grazie che il Signore vorrà concederci per confermarci nel nostro cammino e aprendo il cuore per aderire meglio, corrispondere meglio alla grazia di Dio. Cerchiamo di non sciupare la grazia dei giorni santi che abbiamo vissuto, cerchiamo di custodirla, cerchiamo di testimoniare con la nostra vita la pace del Cristo risorto, la gioia del Cristo risorto, la luce del Cristo risorto, cerchiamo di testimoniare con la nostra vita la verità, poiché come dice il Signore, solamente la verità vi farà veramente liberi. Sia lodato Gesù Cristo.